Ciao a tutti, sono i Logitech e benvenuti in questo quarto capitolo di gameplay del gioco di Medal of Honor al Assault per il computer. Riprendiamo subito da dove eravamo rimasti. Avvio un attimo la mappa. Abbiamo finito la prima campagna, Arziuf, e ora siamo arrivati a Trond. Carichiamo il salvataggio. Come vi ho detto abbiamo fatto la prima parte della missione e ora dobbiamo andare più in fondo. Nel cuore della struttura tedesca. Continua. Perfetto. Questa è una parte stealth del gioco. Nascondiamoci, prendiamo i documenti. Con questo si mostrano i documenti. Chiudi la porta. Vi faccio vedere io come si ammazzano questi. E voilà. Senza che qualcuno si accorga. Guardate, questi ancora ignari che giuocano. Due lì. Anche questi vi faccio vedere come si fanno fuori. Tranquillamente, allora. Cazzo, mi ha colpito. Vediamo se si sono accorti. No. Come vedrete, ho i documenti, sono in regola. Chiudiamo. Sto pensando di fare un video più lungo del solito, in modo da finire tutta la campagna della Norvegia. Quindi, vediamo come viene. Hai hit là. Documenti. Grazie. Ti faccio vedere come si ammazza una guardia. Ecco qua. Tutti, tutti le ammazzo indistintamente. Allora. Andiamo di qua. Andiamo a rubare... Anzi, a distruggere, mi sembra, il... Questo tipo di radar, qui. Questo prototipo. Ma che cazzo vuoi? Sì. Che fail. Voilà. Un concentrato di tecnologia. Perfetto. Andiamo giù. Questo qua, se si è accorto... No. Pensavo che stesse correndo per suonare l'allarme. Ora dire che faremo fuori... Quanti sono? Oh cazzo, c'è un comandante. Allora. Allora. Si fuma la sua sigaretta. Perché voi potete giocare con la pistola se la tiro fuori io? Non uccidete? Andiamo dal capitaine. All'alarme, tua sorella. E nessuno si accorge, nessuno si accorge. Andiamo avanti. Ora bisogna andare all'aperto. Eccoci qui. Ok, qui adesso non posso più fare il pazzerello perché se commetto un errore è un casino. Quindi, facciamo, andiamo giù di stealth. Documenti? Giavoli! Ho posto? Ok. Allora. Vediamo di cosa stanno parlando. Boh, penso delle V... V2. Questo sta qui all'allarme. Ok. Ma sì, facciamo i fighi, dai. Perfetto. Allora, adesso andiamo avanti. Dobbiamo andare... Su di qua. Devo prendere i documenti per poter passare di là, quindi... Dovrò fare una cosa rapida. Uccidere il comandante, qui. Oh, cazzo. Sono stato io? Spero di sì. Guardatelo. Eccoci qua. Ora abbiamo i documenti di secondo grado. Ecco, bravo. Martella, martella. Ciao, vecchio. Eccomi qua. Bene, dobbiamo andare lì dentro. E finiamo la prima parte. E poi... Piazziamo l'esplosivo e fondiamo sta roba. Perfetto. Prima parte completata. Se mi permettete, mi mangio due tic-tac. Ecco qua. Oh, cazzo, ho sbagliato. Volevo abbassarmi, inizio ho schizzato quello di togliere l'arma dal fodero. Allora, l'esplosivo l'ho piazza della fine. T'ho beccato proprio nelle palle. Ma vaffan... Valedetto. Cattivo. Perfetto. Esplosivi. Via. Uno. Ecco, la mia copertura è salzata. Adesso qua c'è un nemico, di solito. Eccolo lì. Muori. Andiamo a mettere l'altra bombetta. Veloce, 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 veloce. Corri, 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 corri. Scappace il Nemesis. Perfetto. Qui c'è un altro nemico adesso. Eccolo qui. Non si sa dove viene. Perfetto. Carichiamoci subito col fucile. Via, 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 via. Sali, sali, sali. Esci, esci. Uccidi uno. Dove cazzo è che... Madonna. E scappa. Via, via. Fammi passare. Via, via. Perché sta ricaricando proprio adesso? Madonna. Muori. Vi sfido a farla difficile questa missione. Io l'ho fatta ed è un casino. Perfetto. Ho fatto in tempo il record. Sono ancora mezz'ora da aspettare. Una volta che è esploso, continuiamo di qua. Dai. Guarda la benzina che scende. Guardate che esplosione. Blam. Eccoli qua. Andiamo avanti di MP40. Via, via, via. Perfetto. Dai che lo finisco tutta questa missione, così. Vengono a suicidarsi. C'è qualcuno? No. C'è qualcuno? No. Energia? Sì. E vabbè. Questo che lancia granate a random. Che cazzo è che mi spara adesso? Eh, la granata dell'acqua. Ah, tu. Uh, c'è un altro qui. Nyeh, 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 nyeh. Sono qua. Figherla. Adesso andiamo di qua. Ce n'è uno, due. Muori. Ok, qua mi diverto col cecchino. La facciamo fuori più. Ma quello che non si è neanche accorto. Un momento. Facciamo fuori questo. 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 E andiamo avanti. La grande fuga. Sì, sì. Ah, no. Non ce la fai. Che cazzo di simbolo è questo? Un pesce a spada? Con un orso? Figata. MP40. MP40. Tara, tara, ta, ta. Tara, tara, ta. Granata. Che cazzo? E non c'è più nessuno. Perfetto. E anche questa parte è finita. E scappiamo dai condotti alla reazione adesso. Sto facendo un gameplay molto rapido. Eccoci qui. Allora, continuiamo. Ah sì, volevo farvi vedere una cosa. No, è già scappato. E lo scarafaggio. Eccolo qui. Che cazzo, madonna, santissima Gesù Cristo. Eh, me ha munizion. Vabbè, ho capito che... Fare i pagliacci qua. Allora, ammazziamo un po' di gentaglia. Haha, che si era inceppato. Vaffanculo. Ho scappato. Vabbè. Gne, gne, gne. Morto. Andiamo avanti. Sono perso. Ecco qua. E allora. Uccidiamo un comandante. Poi ammazziamo... Ammazziamo quello... Sparavogli alla punta del piede. Che bomba questa arma. Facciamo fuori anche questo qui. E adesso si inizia la fuga. Pam, barabam, 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 barabarabarabam. Ho perforato dal giugolare. Sì, 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 sì. Non mi avrai mai nascondino. Eh, eh, eh. Porca miseria. Qualc'azzo? E l'altro dove è andato? Ehi. Oh. Basta, nascondino. Qui? Libero. Dietro di me no. Andiamo avanti. Carichiamo. Granata. Oh, cazzo. Allora. Qui ce n'è uno. Ah, è quello di prima che sono passato sopra. Qui ce n'è uno. Qui ce ne sono due. Adesso ne arriva una manetta, ancora. E sei scarso. Scarso. Muori. A posto. Andiamo qui. Guardali, guardali. No, che peccato. Peccato, era quasi riuscito a ucciderli tutti. Andiamo giù. Prendiamoci un 2% di energia. Assobriamo le scale. Uccidiamo quelli che escono da lì. Uno. Due. E tre. Perfetto. Siamo arrivati alla fine ormai. Dobbiamo solo fuggire. Fuggi, fuggi. Scappa, scappa. Corri, corri. C'è il Nemesis. Che cazzo fa quello lì? Fermo. Guarda che... Madonna. Adesso mi metto un po' qui a uccidli tutti. Sì, power. Ah, 90 secondi. E vabbè, 90 secondi facendo i bruci di noi tanti. No, vabbè, dai. Finiamo la missione. Ah, anche da lì arrivano. Guarda, guarda come mi aiutano questi ragazzi. Quanto sparano. Adesso moriranno tutti. Guarda, vengono massacrati. Quello fa la guardia al palo. Facciamo un minuto. No! Era mio. Va bene. A posto. Saliamo. E vai. Finita anche la quarta campagna. Quarta missione della seconda campagna, qui. Abbiamo guadagnato una medaglia. Precisione 54,6%. Ho una preferita MP40. 32 nemici uccisi. Perfetto. Oh, c'è lo sbarco di Roma andia bene questo. Faccio una missione a parte. Quindi direi di chiudere qui col video. e quindi, 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 il prossimo video inizierà da qui. Lo spark Normandia. Perfetto. Vediamo quanto ci mancherà. Allora, qui, qui, qui e qui. Lo ristoramento non l'ho mai fatto. Va bene. Va bene. Grazie a tutti. Ciao, ciao.